Benvenuti dalla sezione della Lega Nord di Gravin, provincia di Barra, che è la Lega sia con voi e prendetevele nel cuo del Vangelo secondo Bossi, lettera al Piemontese, se la vostra compagna vuole abortir, passateci sopra con un tir, che la Lega sia con voi, convertitevi, presto la Lega sarà tra di noi, diventate settentrionali, 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 un'amera di una ricetta, un'amera di un'amera di un'amera di un'amera di un'amera di una Grazie a tutti.